Abbiamo parlato della nuova maggioranza che in questo momento c'è in Senato, cioè quella del gruppo Ale del senatore Verdini. Lui ci ha detto che in questo momento la ritiene una maggioranza aggiuntiva ma che nel momento in cui sarà sostitutiva interverrà. Secondo quanto dice la Costituzione abbiamo parlato anche di un problema che affligge l'Italia, che è la decretazione d'urgenza. Lui ha condiviso con noi le nostre preoccupazioni e il fatto che il Parlamento non ha più potere legislativo e che quindi anche questo è un suo cruccio. Su questo abbiamo collegato anche la nostra proposta del reddito di cittadinanza che da 15 mesi rimane fermo in Senato e che invece, come dovrebbe essere davvero dibattito parlamentare, dovrebbe comunque approdare in aula e discusso.